Emanuele Greco, detto Elio, 59 anni, pregiudicato e imputato per associazione mafiosa. Imprenditore noto come re dell'imballaggio a Vittoria, rimane in carcere. Lo ha deciso il GIP che ha accolto la richiesta della procura sulla necessità della custodiancella, mentre la difesa aveva chiesto la scarcerazione o i supporti negli arresti domiciliari. Non è vero, peraltro, che egli avesse cercato di soccorrere la vittima come in un primo tempo era stato detto, anzi la sera di venerdì si rese irreperibile, al punto che la polizia, quando scoprì di essere dinanzi ad un tentativo di omicidio, lo cercò per arrestarlo. Poi si presentò spontaneamente. Greco ha confermato di essere stato lui a sparare a Raffaele Giudice, 57 anni, imprenditore dell'autotrasporto, ed averlo fatto al culmine di una lite, ai contrasti per forniture non pagate e per pagamenti non andati a buon fine. Intanto si è appreso che proprio la vittima, Giudice, cercò di mentire fino all'ultimo per tenere nascosto l'episodio. Ai medici del pronto soccorso disse di essere caduto, ma la radiografia rivelò l'esistenza di un proiettile nel suo corpo, che Giudice cercò di giustificare parlando di un vecchio incidente di caccia. Ma la polizia ha fatto piena luce. Diversamente Giudice, essendo un curato correttamente, avrebbe rischiato conseguenze gravi alla propria salute. Elio Greco, pregiudicato, ritenuto affilato alla cosca mafiosa, carbonario dominante, con rapporto anche con Cosa Nostra, gelese del boss Rinzivillo, ha sparato con una pistola detenuta legalmente, sicché dovrà rispondere anche di questo reato, oltre che di tentativo di omicidio. Il suo curriculum criminale è incontestabile, e inquieta la rete dei suoi affari economici intorno al mercato di vittoria, attraverso il controllo degli imballaggi. A gennaio scorso la Guardia di Finanza le ha sequestrato beni per 35 milioni di euro, in seguito alle nuove accuse di associazioni mafiose conseguenti all'operazione Ghost Trash, per le quali è sotto processo. Per Giudice, invece, imprenditore dell'autotrasporto nativo di Comiso, i precedenti risalgono all'arresto avvenuto nel 1994 nell'ambito dell'operazione Squalo. Gli interessati si affrettano a dire, la mafia non c'entra, il movente è solo una questione di debiti non pagati. Ma questo fatto non tranquillizza affatto la città, l'economia sana, l'imprenditore onesto e i cittadini interessati alla sicurezza. Sapere che, in un settore come quello degli imballaggi, cruciale per l'economia del mercato, possono essere attivi i soggetti che, al di là di arresti, sequestri e accuse, possono muoversi liberamente, magari usando i metodi di cui hanno dato prova, è inquietante. Ecco perché è stata invocata una reazione corale. Grave perché, insomma, i soggetti coinvolti sono soggetti, oltre ad avere un loro vissuto nell'ambito di attività legate alle organizzazioni mafiose, sono operatori economici della cosiddetta economia legale. Sono attori importanti che operano nell'inglotto del mercato sotticolo all'interno della fede agroalimentare. E questo testimonia, appunto, il dato delle infiltrazioni mafiose dentro questa filiera. Il che è preoccupante perché, appunto, il paradigma è quello di una mafia sempre più finanziaria, una mafia che indossa i panni delle attività, diciamo, legali, e che operano nel mercato ovviamente in un regime di assoluto vantaggio rispetto alle logiche di libera concorrenza.